Il nome. In questo video parlerò del nome, dirò che cos'è il nome, poi vedremo come analizzare il nome e l'analisi del nome può essere fatta secondo il significato, la forma o la struttura. Quindi cominciamo rispondendo alla domanda che cos'è il nome. Il nome o sostantivo è una parte variabile del discorso che indica persone, animali, cose, idee, concetti, azioni ed emozioni. I nomi concordano sempre in genere e in numero, genere significa maschile, femminile, numero, singolare, plurale, con l'articolo che li precede. Vediamo degli esempi. Vuoi mangiare il gelato o la torta? I nomi sono gelato e torta. Gelato l'ho circolettato di blu perché è un nome maschile singolare e infatti concorda con l'articolo il che lo precede anch'esso maschile singolare. Torta è circolettato di rosa perché è un nome femminile singolare e concorda con l'articolo la che è anch'esso femminile singolare. Altro esempio. I nonni sono molto buoni con noi. In questo caso il nome è nonni che è maschile plurale e preceduto dall'articolo i che è anch'esso maschile plurale. Analisi del nome. I nomi vengono analizzati rispetto a il significato, la forma e la struttura. Relativamente al significato i nomi possono essere comuni o propri, individuali o collettivi, concreti o astratti. Parlando della forma possono essere maschili o femminili, singolari o plurali. Infine parlando della struttura i nomi sono divisi in primitivi, derivati, alterati e composti. Vediamo più nel dettaglio queste suddivisioni cominciando all'analisi del nome secondo il significato. Per quanto riguarda l'analisi del significato un nome può essere classificato in comune o proprio. Bambino è comune, Andrea è proprio. Il nome comune indica una persona o cosa in modo generico, il nome proprio lo fa distinguendola dalle altre. Un nome può essere individuale o collettivo. Pecora è individuale, greggio e collettivo. Un nome individuale indica una sola persona, animale o cosa. Un nome collettivo indica un insieme di persone, animali o cose, pur essendo la parola al singolare. Infine abbiamo nomi concreti o astratti. Case concreto, filosofia astratto. Un nome concreto indica esseri o cose reali. Un nome astratto indica esseri o cose che non hanno consistenza fisica e sono raffigurabili solo mentalmente. Analizziamo il nome secondo la forma. Per quanto riguarda l'analisi della forma, un nome può essere classificato per genere e numero. Il genere può essere maschile o femminile. Bambino è maschile. Lampada è femminile. Il numero può essere singolare o plurale. Telefono è singolare. Motorini è plurale. Non sto a spiegare la differenza tra maschile e femminile, singolare e plurale perché mi sembra abbastanza intuitiva. Per quanto riguarda la formazione del femminile, i nomi si classificano in nomi mobili. Gatto, gatta. Sono nomi questi che formano il femminile ricavandolo dalla forma maschile, cambiando la desinenza. La O di gatto diventa A per formare il femminile. Oppure abbiamo nomi indipendenti, come padre e madre, che hanno delle forme completamente diverse tra maschile e femminile. Oppure abbiamo nomi di generi comuni, come il preside e la preside. Questi nomi qua hanno una forma maschile e femminile identica, uguale, e si distinguono dall'articolo che precede il nome. Il per il maschile, la per il femminile. Infine abbiamo nomi promiscui nella formazione del femminile, come il delfino maschio e il delfino femmina. Queste parole qui hanno la stessa forma per il maschile e il femminile e nemmeno in questo caso l'articolo ci aiuta a distinguere dal maschile e il femminile. Quindi bisogna aggiungere la parola maschio per il maschile, femmina per il femminile. Facciamo l'analisi del nome secondo la struttura. Per quanto riguarda l'analisi della struttura del nome, un nome può essere classificato in nome primitivo, derivato, alterato o composto. Cane è un nome primitivo, vuol dire che questa parola non deriva da nessun'altra parola della lingua italiana. Derivato di cane è canile. La parola canile ha preso origine dalla parola cane. Alterato di cane e cagnolino è una parola alterata, una che esprime tramite appositi suffissi sfumature qualitative o quantitative. Infine composto di cane è scaccia cani, che è una parola formata dall'unione di due o più parole già esistenti. Facciamo un altro esempio. Prendiamo la parola primitiva libro. Derivata di libro è libreria. Alterata di libro è libretto. Parola composta di libro è segnalibro.